in italia oggi più del 5 per cento della popolazione soffre di diabete negli ultimi trent'anni la diffusione della malattia è quasi raddoppiata al punto che gli esperti parlano di epidemia oggi in studio con noi per parlarne il professor angelo avogaro professore di endocrinologia e malattie del metabolismo all'università di padova buongiorno professora avogaro buongiorno a voi grazie per l'invito professore il diabete viene definito un killer silenzioso perché che cosa significa ma un killer senso perché di fatto la glicemia è elevata entro ovviamente certi limiti non dà fastidio non procura sintomi diretti però fa dei danni fa dei danni gravi a molti organi in particolar modo fa dei danni gravi al cervello all'occhio al rene al cuore alla circolazione periferica e nel tempo poi il diabete se trascurato porta un conto salatissimo per il paziente noi parliamo genericamente di diabete però bisognerebbe fare innanzitutto una distinzione certo bisogna fare due distinzioni innanzitutto quando parlo di diabete una sindrome caratterizzata da aumenti della glicemia nel sangue parlo di diabete mellito dal greco diabete da diabaino passo attraverso per glucosio passa attraverso il rene a mellito dal greco melus che vuol dire dolce quindi urina che passa attraverso il rene molto dolce questo lo distingo dal diabete insipido che invece è tutt'altra patologia a carico della neuroipofisi poi nell'ambito del diabete devo dividere il diabete di tipo 2 che è quello che colpisce maggiormente l'anziano al diabete tipo 1 che può colpire in giovane età sin dai primi anni di vita e sono due entità caratterizzate entrambi da un momento della glicemia ma l'approccio è molto diverso è possibile prevenire la malattia quanto incidono gli stili di vita allora nel diabete tipo 2 quello legato molto all'obesità lo stile di vita è essenziale quando parlo di stile di vita intendo che primo bisogna non fumare perché il fumo anche se non è apparentemente in relazione con il diabete porta sicuramente a tutta una serie di alterazioni che aggravano il diabete poi la dieta molto importante e quando dico dieta intendo fondamentalmente la riduzione o l'eliminazione degli zuccheri semplici il preferire dei carboidrati a lento assorbimento va bene a basso impatto sulla glicemia e quando parlo di dieta una dose moderata di proteine non più sicuramente del 30 per cento è sicuramente una scelta di grassi che siano monopoli insalturi e una quantità di vino a dosi moderate quando parlo poi di attività di stile di vita parlo di attività fisica e l'attività fisica ormai è un caposado perché l'attività fisica è un grande alleato dell'insulina cioè quell'ormone che fa entrare il glucosio dal sangue all'interno delle cellule e quindi quando parlo di stile di vita parlo di attività fisica che non deve essere ovviamente sicuramente sempre estrenua no ma deve essere comunque una attività fisica costante e che deve andare oltre al movimento che riguarda la nostra attività lavorativa quindi prendersi quei 45 minuti al giorno di attività fisica che non devono essere quelli che uno impiega per andare a lavorare La genetica professore quanto incide sul diabete? Beh la genetica può incidere ci sono dei tipi di diabete che sono fortemente caratterizzati da un impatto genetico ad esempio c'è un tipo di diabete che si chiama modi che è a forte penetranza genetica chiaramente il diabete non ha un gene che lo determina ma ha molti geni quindi è una malattia poligenica tutti questi geni messi insieme fanno un rischio che non è molto elevato però è chiaro che su questo zoccolo duro del rischio noi ci mettiamo uno stile di vita che non è corretto chiaramente questo porta a diabete E dal diabete si può guarire? No attualmente non si può guarire ma si può curare può regredire il diabete perché molto spesso ci sono dei pazienti che sono fortemente in sovrappeso che hanno un aumento della glicemia vengono in ambulatorio ti dicono professore io ho diabete no se messi se modifichiamo lo stile di vita in maniera efficace se loro mantengono lo stile di vita l'iperglicemia può anche regredire è chiaro che però poi il diabete è una malattia evolutiva e quindi quasi sempre è una malattia che ha una sua progressione però si può curare molto bene Soffermiamoci appunto su questo punto parliamo nello specifico di terapie si parla di microinfusori di insulina orale di pancreas artificiale ci fa un po' di chiarezza sotto questi aspetti? Allora la prima cosa che voglio dire è questa perché molto spesso ci si fanno delle false illusioni Allora innanzitutto il diabete è tipo 1 che colpisce soprattutto i giovani e necessita sempre comunque di terapia insulinica Oggi dove siamo con la terapia insulinica? Con la terapia insulinica oggi abbiamo delle insuline molto più efficaci rispetto a quelli di una volta che seguono proprio la loro comparsa nel sangue come quasi noi avessimo una vera secrezione insulinica Per le cellule staminali dobbiamo aspettare ancora 10 15 forse 20 anni perché siamo ancora la ricerca è molto forte su questo punto ma siamo ancora lontani Poi naturalmente ci sono tutta una serie di modalità che sono tecnologicamente avanzate che ci permettono di somministrare insulina nel sottocute in maniera il più fisiologica possibile E quindi per questo abbiamo fatto dei grandi passi in avanti Per quanto poi riguarda il monitoraggio della glicemia perché bisogna sempre pensare che quando un bambino ha il diabete poveretto i genitori li devono controllare la glicemia Oggi c'è una tecnologia che permette un monitoraggio minuto per minuto della glicemia Quindi la possibilità non di bucarsi le dita tante volte al giorno quanto di applicare dei sensori che possono leggere la glicemia E quindi questi sensori hanno molto facilitato la vita e la qualità di vita del paziente diabetico Questo per quanto riguarda il tipo 1 Per quanto riguarda il tipo 2 quello che è più associato a obesità abbiamo tutta una serie di farmaci Perché la fisiopatologia del diabete tipo 2 è molto complessa ma questi farmaci oggi sono molto efficaci È chiaro che un farmaco può essere efficace finché si vuole però se non è associato a uno stile di vita corretto Poi il farmaco finisce con non agire più e quindi l'ultima spiaggia è proprio anche nel tipo 2 la terapia insulinica Diabete e gravidanza possono esserci delle complicanze? Ma innanzitutto c'è da dire che oggi c'è una sensibilità particolare quando una donna è diabetica e vuole avere un figlio Da non confondersi col diabete che insorge in gravidanza che si chiama diabete gestazionale È chiaro che il diabete gestazionale può portare se non controllato a delle complicanze Perché? Perché la madre diabetica passa al figlio la glicemia e quindi il pancreas del feto deve produrre tanta insulina Per far fronte alla quantità eccessiva di glicemia che la madre trasmette Quindi alla nascita ci può essere un aumento delle dimensioni del feto e questo può essere un problema Ci possono essere delle ipoglicemie postpartum Una volta quando la madre era proprio mal controllata ci potevano essere delle malformazioni fetali E quindi il diabete in gravidanza va particolarmente trattato come anche la donna diabetica che ha il diritto di avere un figlio normalmente Va monitorata e la glicemia va tenuta quanto più normale possibile per evitare le conseguenze Professore la ringraziamo per essere stato con noi qui oggi e speriamo di riaverla presto in studio Grazie, grazie mille, grazie a voi